Ben ritrovati in studio. In apertura di questa seconda parte la cronaca. La polizia di Ragusa ha tratto in arresto tre giovani, un maggiorenne e due minorenni, per furto di benzina. I tre sono stati sorpresi mentre sottraevano il carburante dalle pompe di un distributore in periferia. Vediamo. Arrestati per furto di carburante e danni di un distributore. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio voluti dal questore di Ragusa Filippo Barboso, gli agenti della sezione volante hanno tratto in arresto tre giovani, di cui due minorenni. Subito dopo la mezzanotte di oggi è giunta una telefonata al 113, che segnalava tre giovani che stavano rubando la benzina, saltellando sui tubi degli erogatori di un distributore di carburanti, ubicato nella periferia della città. L'immediato intervento di una volante ha consentito di bloccare i tre autori del reato, che erano ancora in possesso del bidone contenente la benzina. I poliziotti, insieme al gestore del rifornimento, hanno accertato che la benzina non era stata acquistata, ma rubata grazie ad una tecnica particolare. I malviventi, infatti di solito, saltano sui tubi in gomma degli erogatori e riescono ad ottenere tutta la benzina residua nelle pompe. I tre giovani, identificati in Christian Basile di 21 anni, pregiudicato per furto, e in altri due ragusani, entrambi di 16 anni, sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso. Il maggiorenne è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, mentre i minorenni sono stati accompagnati al CPA di Catania. La benzina recuperata è stata restituita al gestore del rifornimento. E torniamo a parlare dell'episodio che riguardato il tentato omicidio di due giorni fa a Comiso e che ha portato all'arresto di una persona, titolare di un'agenzia di pompe funebri. In città, infatti, l'episodio ha suscitato paura, ed intanto torna il dubbio che sia tornato il racket del caro estinto. Il racket del caro estinto è tornato a Comiso. L'episodio che nei giorni scosti ha visto un titolare di un'agenzia di pompe funebri sparare contro due concorrenti, ha fatto tornare la paura in città. Probabilmente si è trattato di un regolamento di conti per debiti non saldati. Gli investigatori hanno avanzato questa ipotesi, ricostruendo il contesto nel quale è maturata la sparatoria di lunedì. I due feriti, titolari anche loro di un'impresa di pompe funebri, sono stati raggiunti alle gambe dai proiettili. Trasferiti immediatamente in ospedale, le loro condizioni comunque non sono risultate gravi. Intanto per Biagio Pace sono scattate le manette con l'accusa di dubbliche tentativo di omicidio e lesioni personali e gli è stata sequestrata l'arma utilizzata nella sparatoria, una 357 magnum detenuta illegalmente. I rapporti tra le agenzie di pompe funebri a Comiso sono sempre stati difficili, e infatti nel 2002 la questura sospese tutte le licenze del settore, ritirando quelle rilasciate e imponendo la creazione di un consorzio tra le società presenti nella città casmenea, facendo tornare in questo modo la calma in città. Un vittorese di 48 anni è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. All'interno dell'azienda di proprietà dell'uomo, infatti, sono stati ritrovati prodotti per l'agricoltura, rubati qualche giorno prima in altre aziende. Un vittorese di 48 anni, titolare di un'azienda agricola incontrata a Dirillo, è stato segnalato all'autorità giudiziaria in quanto ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Da alcune settimane il commissariato di Vittoria ha attivato servizi di controllo presso le aziende agricole al fine di prevenire la ricettazione di prodotti per l'agricoltura rubati in aziende dell'Ipparino e di centri limitrofi. Ieri pomeriggio, nel corso di un controllo nell'azienda di proprietà dell'uomo, peraltro già segnalato in passato per reati contro il patrimonio, è stata rinvenuta una partita di prodotti antiparassitari per l'agricoltura, disposti su due pedane di legno ed occultati dietro ad alcune pedane di cassette. Gli approfondimenti sul materiale rinvenuti del valore di alcune decine di migliaia di euro hanno permesso di appurare che si trattava di parte di merce rubata qualche giorno prima ad un'azienda di Niscemi. I prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e verranno restituiti al legittimo proprietario non appena lo disporrà l'autorità giudiziaria. Incidente stradale ieri, poco prima di mezzanotte a Ragusa, in via risorgimento. Una Renault Clio per causa in corso di accertamento è andata a sbattere violentamente sul costone roccioso che delimita la careggiata. I cinque occupanti dell'auto sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale civile di Ragusa. Per loro la prognosi vanno dai sei agli otto giorni. E continuiamo ancora con la cronaca. Tre infermieri dell'ospedale maggiore di Modica hanno ricevuto a proprio carico altrettanti avvisi di garanzia dopo un esposto presentato da due genitori di un neonato. Ma sentiamo i particolari in questo servizio. Avvisi di garanzia per tre infermieri dell'ospedale maggiore di Modica Gli atti d'accusa riguardano due operatori della divisione di ostetricia e uno della divisione di pediatria. I tre sono stati denunciati circa tre mesi fa dai genitori di un neonato che si erano lamentati per una presunta scarsa assistenza nei confronti del figlio. La magistratura inquirente, a seguito della querela, ha iscritto gli operatori sanitari nel registro degli indagati. Secondo l'accusa, subito dopo il parto, i neonati andrebbero in pediatria, ma essendo in condizione ottimale vengono lasciati in ostetricia insieme alle mamme. Nel caso specifico, mentre il pargoletto era con la sua mamma, avrebbe avuto un rigurgito che ha allarmato i genitori. Era necessaria a quel punto, secondo quest'ultimi, la pronta assistenza degli infermieri di pediatria, che però non era presente. È stato chiamato ed è intervenuto dopo alcuni minuti tra le forti rimostranze dei neogenitori, preoccupati di quanto poteva accadere al loro bambino, che poi ha lamentato problemi di metabolismo. La direzione sanitaria dell'ospedale maggiore è intenzionata a tutelare i propri infermieri, ritenendo che questi non hanno commesso alcun reato e che l'assistenza al bambino è stata fornita, comprendendo in ogni caso le ansie dei genitori. Nunzio Zago, professore ordinario di letteratura italiana, è stato eletto preside della Costituenda Facoltà di Lingua e Letterature Straniere, che dal prossimo anno accademico avrà sede a Ragusa. Zago, unico candidato, ha ricevuto al termine delle operazioni di voto, che si sono svolte questa mattina, 14 preferenze su 14 aventi diritto al voto, tra docenti e rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. E cambiamo decisamente argomento. Particolare evento questa sera. A partire dalle 21, infatti, sarà possibile osservare l'eclissi di luna, che si colorerà pure di rosso, ma cerchiamo di capire il perché in questo servizio. La luna si colora di rosso. Chi questa sera osserverà la luna la vedrà colorarsi di una bella tinta arancione tendente al rosso. È un fenomeno astronomico abbastanza frequente, legato al meccanismo dell'eclissi. Il termine viene dal greco e significa nascondere. In pratica si sa che quando un corpo geleste passa davanti ad un altro rispetto a un osservatore che si trova sulla Terra, lo nasconde agli occhi di quest'ultimo. Nel caso di questa sera è la Terra che passa davanti alla Luna, frapponendosi fra il Sole e il nostro satellite, che così finisce nel cono d'ombra proiettato dal globo terrestre. Ma perché la Luna si colora di rosso? La circostanza è dovuta al fatto che la Terra, eclissando il Sole rispetto alla Luna, fa sì che i raggi dell'astro debbano attraversare l'atmosfera del nostro pianeta, che è abbastanza densa da assorbire alcune frequenze della luce solare. Riescono a passare soltanto le più basse, corrispondenti a quelle della colorazione rossa. Ma al di là della spiegazione scientifica, questa sera a partire dalle 21 fino oltre la mezzanotte, si potrà assistere a uno spettacolo davvero emozionante e perché no romantico. E con questo servizio termina qui il nostro DG. Vi ricordo che potrete rivedere queste e le altre edizioni all'indirizzo internet www.freetvonline.it Buon proseguimento! Grazie per la visione!